Questo ha permesso di aggredire l'avversario e una volta di contestata palla di partire con grande efficacia. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiano. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie. 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 Grazie.